la cena è sempre un problema allora questa sera farò una cosa speciale ma molto molto veloce allora un trancio di tesa di tacchino che ho cotto arrostito semplicemente alla piastra e poi tagliato ma poi non volevo fare la salsa tornata perché è troppo pesante e allora mi sto inventando ma forse esiste già una salsa così allora ho messo 200 ml di panna light e adesso ci vado ad aggiungere due scatolette di tonno ben gocciolate lo strizzo e faccio un attimino evaporare l'acqua della panna per poi andare a creare la mia salsa ci aggiungo qualche cappero che dopo nella salsa tornata che questa non è una salsa tornata comunque ecco qua qualche capperino e quando è pronto andiamo a vedere che meraviglia e che bontà ne uscirà ecco qua la mia salsina l'ho fatta scaldare giusto giusto un minuto ok per togliere è d'accordo voi direte la panna però la panna è light e vi assicuro che la maionese è molto più strong a livello allora con questa salsina vado a ricoprire le mie fettine bene abbondante che buono è una specie di come lo chiamiamo tacchino tonne non lo so tacchino arrosto tonne ok così questa cosa vedrete perché diciamo se voi lo arrostite lui insomma si 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 cuoce praticamente in breve tempo anche se è un diciamo anche se si è un trancio intero ci vado a mettere qualche capperino sopra scusate il braccio una bella spolveratina di prezzemolo che fa colore tanto per i pasticci che faccio ed ecco qua una cena gustosa buona e light e light fa rima con like quindi mi raccomando like visual e anche il mio dito di mezzo che ha rovinato il video comunque mettetemi like lo stesso iscrivetevi lo stesso ciao ragazzi alla prossima ciao